Ci troviamo nelle condizioni di avere un parco urbano brutto piccolo per la maggior parte cementificato e con degli alberi mutirati, orrendo. Con il taglio mostruoso degli alberi si toglie ombra al parco che è piuttosto piacevole soprattutto nelle calde giornate estive quando noi mamme portiamo i nostri bimbi al parco e cerchiamo di riposare stando seduti all'ombra. Purtroppo adesso sarà impossibile. Questi alcuni dei commenti da parte dei cittadini del posto amareggiati dopo la potatura degli alberi presso la villa comunale ad Agropoli è stato necessario potarli perché malati a comunicarlo ai cittadini di Agropoli e il sindaco Adamo Coppola ma ben presto le piante ritorneranno a fiorire. La potatura era necessaria per due motivi. Uno perché gli alberi erano cresciute in maniera vertiginosa diventando pericolose poi perché avevano delle malattie che gli alberi che potevano mettere a rischio la presenza dei bambini in quell'area che tra l'altro come sapete sarà interessato da una riorganizzazione del servizio in particolare sarà nuovamente attrezzata con giochini nuovi e quindi era giusto mettere in sicurezza l'area stessa. In questo modo la potatura che per un breve periodo darà meno ombra ma sappiamo che quelle piante in breve tempo avranno nuovamente chioma però è stato necessario potarle proprio perché c'era un problema di malattia della pianta stessa.